È un marocchino di 24 anni, clandestino, precedenti per droga, il presunto assassino del 64enne suo connazionale, ucciso nella notte della vigilia di Pasqua nei giardini pubblici di Via del Campaccio. Una lite tra ubriache finita male, scatenata forse da contrasti legati alla detenzione o allo spaccio di stupefacenti. Il movente non è ancora del tutto chiaro agli uomini della squadra mobile che sotto il coordinamento del sostituto procuratore Laura Canovai, in meno di 48 ore, domenica, hanno fermato il presunto omicidio. Il fermo è stato convalidato. Sul giovane pesa un elemento indiziario in particolare. Le tracce di sangue della vittima sul gesto che portava al braccio destro per via di una frattura e su una scarpa. Abbiamo cercato di capire, interrogando la persona in questione, da cosa fossero derivate e non abbiamo avuto spiegazione. Non ha confessato il 24enne, mentre la donna di 48 anni, italiana, trovata sul posto dalla polizia al momento della scoperta del cadavere. Anche lei, con i segni di colpi e botte sulla testa, sul viso e anche sulle braccia a indicare che ha cercato di difendersi dall'aggressione, ha detto di non ricordare niente di quanto successo. Lei e la vittima avevano una relazione. Una quarta persona, che sicuramente ha avuto un ruolo nella vicenda, viene cercata dalla polizia. I cui rapporti con l'aggressore, con la persona fermata, sono stati da quest'ultimo clandestinizzati, sono stati taciuti. E questo è un altro elemento che ci ha portato a ritenere gravi gli indizi. La vittima, in Italia dal 1990, per qualche tempo con un lavoro stabile nel tessile, era finita ai margini e viveva in un box sistemato in un campo nei pressi dei giardini, teatro dell'omicidio. Anche il presunto assassino viveva nei paraggi, anche lui in condizioni precarie. La donna, invece, ha un appartamento.